Sul MES, dal nostro punto di vista, è il Robin Hood al contrario, che porta via soldi a chi ha bisogno per salvare le banche dei tedeschi che non ne hanno bisogno. Se io dovessi riassumere l'idea è questo, con l'obiettivo finale di dire che l'Italia ha bisogno di quei soldi, ma prima di accedere a quei soldi deve fare altri tagli, come abbiamo già fatto in passato, chiudendo altri ospedali e altre caserme dei vigili del fuoco. No, errare umano, perseverare, sarebbe diabolico. Stiamo morendo di austerità, basta con i tagli e le chiusure.